a tutti ragazzi benvenuti in questo video sono pokemon ita 7 e oggi finiremo l'apertura degli altri cinque pack del set pokemon go queste nostre tb allora l'abbiamo la nostra promozionale di mewtwo slacking v abbastanza pessimo però c'è il mio viastro che ha alzato un pochettino il tiro quindi continuiamo con questi cinque pack speriamo che questo tb ci regali qualche piacevole sorpresa lo mettiamo in un angolo e incominciamo allora come sempre ragazzi vi invito a lasciare un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportarmi vi ringrazio per i risultati che pian piano stiamo raggiungendo sono molto contento e fatemi sapere cosa ne pensate anche di questi video è tutto allora codicino per voi regalo 1 2 3 e 4 vediamo un attimino energia acqua xatu pokestop slow bro pikachu squirtle biduff meltan charmander spinarack e ci abbiamo il primo ditto ragazzi il primo ditto è qui finalmente garados wow ecco qui mettiamo in slip abbiamo finalmente c'è il pull rate di questi ditto è qualche cosa di c'è sono rarissimi rarissimi ragazzi quindi ci sono subito da allora la dovrei spedicolare per farvela vedere però se ne troviamo un'altra la spedicoliamo comunque un po più grossa e fa fatica nelle slip ad entrare eccolo qua wow ci voleva anzi non ho slivato le altre questo qui si merita parecchio oh dai sono molto soddisfatto del ditto andiamo col prossimo pack vediamo un attimino allora ragazzi il charizard lucente già l'ho trovato non qui ma tramite una la live del mio caro amico sguain con un pack regalato con mio amico e l'ho trovato quindi trovare quello non sarebbe la più vita ma il new two alternative si mi piacerebbe dobbiamo ammettere molto codicino per voi 1 2 3 4 e ci siamo eccoci qua energia ivisaur ivisaur wortaltol caramella rara ivom vulbasaur vdav magikarp dubito che ci sia melmetal una gold modulo esca gold mhm poteva andare meglio però non ci possiamo neanche qui lamentare perchè comunque è sempre una gold quindi mettiamola sub nella sleeve modulo esca gold molto decentrata da quello che vedo qui dal bordo però ragazzi cosa ne pensate del video che ho pubblicato tempo fa del charizard della mia prima carta gradata eh che ne pensate devo dire che è stato uno degli acquisti più belli e più riusciti che ho fatto comunque modulo esca bellino dai qua stiamo aumentando il pull andiamo abbiamo tre pack tre pack quindi vediamo un attimino che cosa troviamo all'interno di questi ci aprirlo è complicatissimo oh ci siamo ecco qui vediamo un attimino che cosa troviamo all'interno oh un vivarello bellino all'interno di questo pack codicino per voi ragazzi uno due tre quattro un po' davanti oh energia erba soul rock spark censi bibarel spinarack pidav ratata di alola wing pod un fizzant e poi una v oh dragonite v wow ragazzi ste tb che bello che bella questa v wow queste tb cioè sta dando soddisfazione abbiamo gli ultimi due pack può essere che potrebbe magari uscire qualche altra carta però ci siamo eh ci siamo eh ci siamo eh vediamo un attimino wow non male non male sono abbastanza soddisfatto devo dire mi piacerebbe sinceramente una lucente adesso andremo piano nello slot della reverse per sperare di vedere qualcosa è già buio modulo esca formale ariados incubatrice uova magikarp onyx ivy numel radicait da alola charizard reverse non male e galisot non male dai non male vediamo un attimino quest'ultimo pack che cosa ci regala mi piacerebbe trovare un'ultima carta una due tre segnalino di lasso e quattro oh no ho sbagliato ho messo male e abbiamo l'olografica già sappiamo che abbiamo il charizard olografico ragazzi però ci sarebbe la speranza di avere la speranza di avere una lucente magari allora sembra più scuro come prima però non vorrei sbagliarmi e infatti mi sbagliavo bibarel va bene ragazzi io direi che ci siamo vi invito a lasciare un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e a un prossimo video a un prossimo video e